Ciao a tutti, il mio nome Rosita vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Oggi vi parlo di uno dei gialli più appassionanti del secolo scorso, protagonista una donna appariscente e che non faceva nulla per risultare simpatica agli occhi degli altri. Anzi, tutt'altro. Oggi vi parlo di Maria Luigia Redoli, la circe della Versilia. Siamo in Versilia, appunto, sul litorale toscano che si affaccia sul Mar Ligure, e precisamente a Forte dei Marmi. È una bella serata di luglio e tutti si godono l'ultima calda estate di quei ruggenti anni Ottanta. Non tutti, a dire il vero. Di certo non Maria Luigia Redoli, che è appena tornata da una serata in discoteca con i figli, intorno alle due del mattino di lunedì 17 luglio 1989, apre il garage di casa e fa una amara scoperta. Sul pavimento del garage c'è il marito che giace bocconi su un lago di sangue. Quell'uomo è Luciano Jacopi, detto Gasparello. Maria Luigia non lo tocca, non si avvicina neanche per controllare se fosse ancora vivo. L'esta richiude la porta del garage, si rimette in macchina e con brutale schiettezza ai suoi ragazzi dirà, vostro padre è morto. Poi corre al comando dei carabinieri, che si trova a pochi metri dalla sua abitazione. Inizia così il famoso giallo della Versilia, che terrà banco per tutta la metà degli anni 90 e che scatenerà le fantasie dei cronisti di Nera. Luciano Jacopi quando muore ha 69 anni, Maria Luigia appena 50. Ben 20 anni di differenza correvano fra Jacopi e la bella moglie. Viene da chiedersi come e quando i due si erano incontrati e chi sono Luciano Jacopi e Maria Luigia Redoli e perché la donna reagisce in quel modo freddo alla vista del cadavere dell'uomo. Che rapporto c'era fra i due? Maria Luigia Redoli nasce a Torino nel 1939 da genitori toscani. Dopo il liceo classico si iscrive a medicina, ma non è fatta per lo studio Maria Luigia, piuttosto che la mente preferisce curare il fisico. Sa di essere molto bella e fin da ragazza è determinato a trovare un buon partito con il quale casarsi. Ad appena 20 anni con la famiglia si trasferisce a Marina di Cecina, luogo di origine dei genitori. Gasparello e Maria Luigia si incontrano nel 1966 quando lei ha appena 28 anni e lui quasi 50. E come tutto in questa storia, anche sulle modalità di incontro fra i due, la narrazione è affidata alle voci di paese. Secondo alcuni i due si erano conosciuti in un night di Marina di Cecina, secondo altri tramite inserzione. Tra leggende e realtà le cronache raccontano che i due si incontrano a Cecina. L'approccio di Gasparello a una fresca Maria Luigia fu da manuale. L'uomo si presentò col suo bel macchinone, come dirà la stessa Maria Luigia, tutto tirato a lucido, tanto da sembrare un boss. E la ragazza, con encomiabile pragmatismo, pensò, accipicchia, questo deve essere pieno di quattrini. Gasparello, scapolo impenitente, era in cerca della perla rara, una ragazza di buona famiglia che potesse dargli qualche erede e da esporre come un trofeo. Maria Luigia era la perla rara di cui aveva bisogno e rispondendo a degli istinti più terreni che romantici, Maria Luigia accetta di sposarlo. I due convoleranno a nozze nel 67 e rimarranno insieme fino a quel maledetto luglio del 1989. Nel 1989 Maria Luigia ha 50 anni, ma i segni del tempo sembrano non averla sfiorata. La potremmo definire come spavalda, fuori dalle righe, anzi assolutamente fuori dalle righe, disimbita e sicura di sé, al punto da sfidare le regole del buon gusto che volevano una donna della sua età infagottata in abiti da signora, l'immancabile filo di perle, i capelli cotonati e pochissimo trucco, secondo i dettami di allora. Maria Luigia invece prediligeva la bronzatura perenne, i tacchi a spillo e le minigonne, le maglie scollate, la bisotteria pacchiana. I capelli li portava corti, lisci, rigorosamente all'indietro e rigorosamente color platino. Nessuno avrebbe saputo dire quale fosse il vero colore dei suoi capelli, forse non lo sapeva più neanche lei, ma la caratteristica che la distingueva a colpo d'occhio tra i tanti erano i suoi iconici occhialoni neri. Talmente grandi da oscurarle completamente la parte alta del viso. E con quel fisico da trentenne e quel look scandaloso, almeno per il tempo, Maria Luigia sfidava i benpensanti che storcevano il naso al solo vederla, fregandosene delle inevitabili chiacchiere che si facevano attorno a lei. Ma neanche di Luciano Jacopi si diceva un gran bene a Forte dei Marmi. Gasparello, così veniva chiamato, era da tutti considerato un uomo arido, spietato e talmente attaccato ai soldi che si racconta che quando morì suo padre si rifiutò di pagare le spese del funerale considerandole troppo esose. Fu lui stesso a caricare il corpo del padre di notte per scaricarlo al cimitero come un sacco della spazzatura. Ma quella avarizia era giustificata da condizioni economiche disagiate? Ma neanche per sogno, anzi Gasparello, che ufficialmente faceva la gente immobiliare, in realtà era un ricco proprietario terriero. Possedeva case, tante case, terreni, negozi, capi di bestiame. Altro che povero, Gasparello era pieno di soldi. Si parla di un patrimonio di 7 miliardi di lire e fin qui non ci sarebbe nulla di male. Ma come se li era fatti quei soldi Gasparello? A sentire i suoi concittadini di Forte dei Marmi, Gasparello trafficava in strani giri e soprattutto prestava soldi a strozzo. Tutti lo ricordano sul suo motorino a riscuotere affitti in giro e magari recuperare i soldi dei prestiti. Era chiaramente in viso a molti, al punto che quando la notizia della sua morte face il giro della città, in molti stapparono bottiglie di spumante per festeggiarne la di partita. Questo era Gasparello, un uomo che in vita attirò solo odio e che era presumibilmente pieno di nemici. Al suo funerale il corteo fu breve, una decina di persone appena, tanti giornalisti appostati qua e là per catturare l'appariscente moglie che si lascerà anche andare a qualche pianto. Ma anche i carabinieri, anche loro, concentrati sulla moglie, ma per altri motivi. Ma torniamo dentro quel garage dell'orrore, quello in cui Gasparello viene trovato con la faccia affondata nel suo stesso sangue. Quando i carabinieri arrivano sul posto intorno alle 5.30 del mattino, iniziano subito i rilievi del caso, scoprono così che Jacopi era stato attinto da 18 colpi di arma da taglio, precisamente 13 fendenti all'addome, 2 al collo e 3 al braccio. Era morto per dissanguamento, come si appurerà in seguito. Al momento del delitto l'uomo indossava una canottiera bianca di cotone di quelle che una volta si indossavano sotto le camice e un paio di pantaloni lunghi celesti, ai piedi delle pantofole. La scena del crimine, come si può ben immaginare, era piena di sangue che era schizzato un po' ovunque. C'era del sangue persino sul pianerottolo dalla quale, attraverso una porta, si accedeva alle scale di casa, quelle che portavano all'appartamento al primo piano. Queste, in particolare, erano macchie da gocciolatura. Altre macchie vennero rinvenute anche all'esterno del garage e poi una macchia di sangue sulla maniglia della porta che dal garage porta alle scale superiori. Questa era una macchia da trasferimento, come se qualcuno con la mano sporca di sangue avesse toccato la maniglia. Prima che ve lo stiate chiedendo, non fu possibile rilevare le impronte della maniglia, perché lo strofinamento stesso del sangue sulla maniglia le aveva cancellate. Nessuna orma di scarpe, nonostante tutto quel sangue, chiunque avesse ucciso Jacopi aveva fatto attenzione a non calpestarlo. Secondo una primissima ipotesi, l'assassino di Jacopi, pur non calpestando il sangue, con il coltello sporco di sangue, avrebbe aperto la porta che dava sulle scale e si sarebbe avvicinato ai gradini, facendo gocciolare il sangue. Poi però deve essere tornato indietro, altrimenti, probabilmente, avremmo visto altre macchie ematiche sul resto degli scalini. E in effetti all'interno dell'appartamento non sono state rilevate tracce ematiche. Il corpo verrà esaminato dal medico legale, che sulla base della disposizione delle ferite è riuscito a ipotizzare una possibile dinamica del delitto. In particolare, le ferite all'addome erano tutte molto ravvicinate, concentrate su una porzione ristretta. Questo suggerirebbe che Jacopi fosse stato sorpreso alle spalle da un aggressore, che da dietro, mentre lo teneva fermo con un braccio, con l'altro lo aveva colpito più volte sullo stesso punto, proprio per il ridotto spazio di azione dovuto alla presa da dietro. L'arma che ha colpito Gasparello era presumibilmente un banale coltello da cucina, a punta con una sola lama, coltello che tra l'altro non venne mai ritrovato. Infine, sulla base del rigor mortis e del raffreddamento del cadavere, il medico legale collocò l'ora della morte prima della mezzanotte, in quanto alle 5.30 del mattino il corpo era in pieno rigor mortis. Ma come aveva trascorso le ultime ore di vita Luciano Jacopi? Per certo si sa che l'uomo aveva trascorso quella domenica con l'amante, di buon mattino infatti si era recato in treno a Follonica, dove viveva Agatha tutto bene, una donna che aveva conosciuto tramite inserzione sul giornale La Pulce. Agatha era andata a prenderlo alla stazione, egli si era presentato con una bottiglia di champagne da 25.000 lire, come citerà dire lo stesso Jacopi. Poi avevano pranzato a casa di lei e che pranzo? Risotto ai fagioli, tortelli e spaghettoni a ragù e per dolce una torta di mandorle. Normalmente a un pranzo simile sarebbe seguito un coma immediato, ma non Gasparello che insieme ad Agatha consumerà un rapporto. Alle 19.40 torna alla stazione di Follonica per prendere un treno per Forte dei Marmi, dove arriverà alle 21.15. Da lì con la sua Range Rover parcheggiata alla stazione tornerà alla sua villa in via provinciale. Parcheggia la Range Rover all'interno del garage che apre con le sue chiavi, e questo è importante, e accede alle scale dalla porta del garage e una volta a casa poggia le chiavi sul ripiano all'ingresso e si mette comodo. Si toglie la camicia che verrà ritrovata appoggiata su una sedia, indossa le pantofole, accende il condizionatore perché fa molto caldo e alle 21.45 chiama Agatha, a cui dice di essere ancora pieno del pranzo e che avrebbe solo preso una birra prima di dormire. Quella sarà l'ultima azione da vivo di cui si avrà traccia. Insieme ai carabinieri sulla scena del crimine c'è anche Maria Luigia che, fredda e impassibile, da dietro i suoi occhialoni neri, osserve il trambusto attorno al corpo del marito. Poi dice una cosa che lascia sconcertati gli inquirenti. Maria Luigia con brutale schiettezza riferisce al comandante dei carabinieri che al marito mancava il portafogli con dentro un milione e 250 mila lire. Ma come faceva la Redoli a sapere che il marito non aveva portafogli e soprattutto perché quella cifra così precisa? La Redoli su questo particolare darà una sua spiegazione. Maria Luigia disse che il marito era solito portare il portafogli nella tasca dietro. Si era quindi accorta che non ce l'aveva perché non c'era il tipico rigonfiamento da portafoglio. E poi proprio il 17 del mese era il giorno di riscossione degli affitti ed essendo stata lei a riscuotere l'affitto di un negozio di tende sapeva più o meno la cifra che avrebbe dovuto avere addosso Gasparello e che la stessa gli aveva consegnato in mattinata o nel primo pomeriggio. Ma Gasparello si portava presso nel portafoglio una cifra del genere. Non era più logico che riponesse i soldi al sicuro? È strano, no? Sì, lo è anche per gli inquirenti che registrano il dato e vanno avanti con i rilievi. Ma non sarà l'unica cosa strana che la Redoli farà in quella lunga notte. Altro elemento su cui si concentreranno gli inquirenti è l'enigma della porta chiusa. Sì, perché quando il comandante Pudda salì al piano superiore per ispezionare l'appartamento si accorse che la porta era chiusa. Jacopi però non aveva con sé le chiavi. A quel punto Maria Luigia Redoli tirò fuori le sue di chiavi con le quali aprì la porta e col po' di scena la porta risultava chiusa a quattro mandate. Come il diavolo avrebbe fatto Jacopi a chiudere la porta con le mandate senza le chiavi? Questo si chiede il maresciallo Pudda. Forse Jacopi semplicemente non era rientrato a casa. No, lo abbiamo visto. Jacopi era certamente rientrato e lo si evince innanzitutto dall'abbigliamento tipico di chi si rilassa a casa, canottiere e ciabatte. Inoltre le luci della cucina erano accese così come il condizionatore e c'era poi quella conversazione telefonica delle 21 e 45. Vi erano inoltre, e questo è un particolare molto importante, un mazzo di chiavi perfettamente riposto sul piano all'ingresso. Per gli inquirenti quelle erano le chiavi di Jacopi e questo rendeva tutto maledettamente più complicato e se anche si fosse ipotizzata una dimenticanza come capita spesso, quelle quattro mandate rimettevano tutto in discussione. Per logica qualcuno con delle chiavi deve avere per forza chiuso la porta con le mandate e se non era stato Jacopi chi poteva essere stato? Per gli inquirenti c'è una sola spiegazione, l'assassino di Luciano Jacopi era colui che aveva chiuso la porta a quattro mandate. Inutile dire che quasi subito tutti i sospetti si erano concentrati sulla misteriosa moglie poco affranta di Luciano Jacopi, Maria Luigia Redoli. Jacopi però, lo abbiamo detto, aveva tanti nemici. Quel suo prestare soldi a strozzo non rese di certo bersaglio facile di rappresaglie. Si cercò quindi di seguire la pista della vendetta da parte di qualche debitore stanco di pagare interessi altissimi su prestiti di scarsa entità. Ed i personaggi fortemente esposti con lui ne saltarono fuori un bel po', ma tutti dichiarano di non avere mai avuto nulla a che fare con Gasparello, che loro di prestiti non ne avevano mai chiesti. Ma non c'erano soli debitori ad avercela con lui, anche gli inquilini degli immobili in affitto, che al primo ritardo venivano raggiunti da ingiunzioni di sfratto immediati. Era anche uno dalle cause facili, pensate che una volta intentò una causa contro uno dei suoi inquilini che versava in condizioni economiche precarie e che per tirare su qualche soldo vendeva pesce su una motoape che teneva in un modesto capanno. Chissà per quale motivo Gasparello si incaponì affinché quella baracca venisse giù e incaricò un avvocato di portare avanti la causa, finendo comprendersela anche con l'avvocato a suo dire troppo poco deciso nell'accontentare il suo sanguigno cliente. Ma quella pista ben presto venne abbandonata e gli inquirenti tornarono a concentrarsi sul sospettato numero uno, Maria Luigia Redoli, quella che di lì a breve sarebbe balzata agli onori delle cronache come la circe della Versilia. Quando la interrogano, Maria Luigia appare indifferente alla morte del marito. Tuttavia, quando le chiedono di descriverne i rapporti, la donna propinerà agli inquirenti un quadretto familiare di estrema normalità. Ma era davvero così? No, affatto. Il loro non fu mai un matrimonio d'amore, anzi i due coniugi, lontani da qualsiasi forma di conformismo o di sorta, conducevano vite separate. Maria Luigia adorava soprattutto spendere i soldi di Gasparello e non ne faceva mistero. gioielli, vestiti, una bella macchina. Ma non fu così scontato per Maria Luigia usufruire dei benefici di quel matrimonio. Sì, perché Jacopi, dopo un'iniziale generosità funzionale alla conquista della preda, si era rivelato gretto, meschino, arido e avido. Ma giacché Maria Luigia non era attivo da arrendersi a un marito padrone, fece tutto quanto in suo potere per sfruttare il vantaggio che le dava quel matrimonio di interesse. Gasparello così iniziò ad aprire i cordoni delle borse a favore di Maria Luigia, che iniziò ufficialmente la sua vita da donna sposata, ma libera. A lei Jacopi intestò dei negozi, qualche immobile e un appannaggio mensile di un milione. Ovviamente sia Maria Luigia che Gasparello non disdegnavano di frequentare altre persone. Maria Luigia amava circondarsi di uomini molto giovani, per fugace avventure che si consumavano nello spazio di qualche giorno. Gasparello invece le sue amanti le incontrava in una vecchia casa colonica di sua proprietà adibita a Garçonier, a Lido di Camaiore. Lui le donne le cercava tramite inserzioni in varie riviste per cuori solitari, come La Pulce. Gentiluomo, 60 anni, sano, distinto, alta classe sociale, non libero, cerca giovane donna, scopo, duratura, amicizia, affetto, onestà e riservatezza. No mercenari, anonime, superficiali. Jacopi e la Redoli però si tenevano nascoste le reciproche vite, secondo un tacito accordo. Letti separati, vite separate, nessun tipo di affetto o amore. Da quel matrimonio nascono due figli, Tamara e Diego. Tamara, crescendo, diventa una specie di clone della madre, a partire dai capelli biondo platino e in effetti la imitava in tutto, dai vestiti, al modo di camminare, agli atteggiamenti. Dove c'era Maria Luigia c'era anche Tamara. Le due erano legatissime di un legame al limite del morboso e Maria Luigia a quei figli adorati se li portava ovunque. Quelli però non erano i veri figli di Luciano Jacopi. Maria Luigia, infatti, desiderosa di diventare madre, capisce ben presto che Gasparello di figli non poteva averne. Come dirà la stessa Maria Luigia, non poteva ingenerare. Tamara e Diego saranno il frutto del suo amore per un ex maresciallo dei Carabinieri, che però morirà nel 1984. Maria Luigia, sempre per quel, chiamiamolo così, senso pratico, decise che quei due figli amatissimi e fortemente voluti sarebbero stati dei Jacopi, e così fu. Jacopi non ha mai neanche avuto il sospetto che quei due ragazzi non fossero suoi. Tutte via, anche con loro, fu un padre anaffettivo, che pensava solo a fornirgli i beni primari e poco altro. Tamara però, a 15 anni, scopre che quell'uomo che lei credeva suo padre, ma che odiava con tutta se stessa, in realtà non lo era affatto. E sarà la stessa Maria Luigia a rivelarglielo. E glielo dice proprio per toglierle quel peso di avere un padre che non l'amava. Non prenderti pena, Tamara, non soffrire per lui, tanto non è tuo padre. Diego, che all'epoca dei fatti aveva appena 14 anni, lo saprà invece dai giornali dopo la morte di Jacopi. Quella sconvolgente rivelazione, però, anziché tranquillizzare Tamara, ha qui il suo astio. Tamara a quel punto si sentì legittimata a odiare quell'uomo, e l'avversione per Gasparello crepa a dismisura, tanto da portarla a compiere degli atti a dir poco macabri. Durante i primissimi sopralluoghi in casa Jacopi, in camera di Tamara, venne infatti ritrovata una scatola con all'interno dei chiari strumenti di magia nera. Da quella scatola tirano fuori un limone infilzato di spigli e ben due foto dell'ormai defunto Jacopi, anche quelle ben puntellate da spigli neri, e per non farsi mancare nulla in camera di Tamara, trovarono anche un foglio con una scritta agghiacciante. Domattina la morte è imminente. Ma cosa c'era dietro quel macabro armamentario ritrovato in camera della giovanissima Tamara? C'era una passione per l'occulto che la ragazza condivideva con la adorata madre. Maria Luigia, in particolare, pare fosse ossessionata da maghi e fattucchieri che consultava tutti i giorni per ogni cosa. Era quindi cliente abituale dei più rinomati studi di cartomanzia della città, a cui elargiva soldi in quantità. Un nome su tutti, la maga Patrizia, al secolo Piera Scazzola, di cui la Redoli era cliente assidua da almeno cinque anni. Maria Luigia cascasse il mondo tutte le mattine si presentava al suo studio e chiedeva dell'amore, e soprattutto chiedeva che la maga le preparasse degli infallibili, diciamo così, filtri d'amore. Come dirà la stessa maga, giacché la signora non riusciva a tenersi nessun uomo, chiedeva a me di prepararle dei filtri per tenere a sé gli uomini di cui si innamorava e per toglierli alle mogli. La signora non ha niente carte, la signora era fissata con i filtri d'amore, la signora non riusciva a tenere legato nessun uomo, fermo restando che secondo me non amava neanche, e la signora desiderava sfare le famiglie. Il suo intento sarebbe stato quello di rendere schiavi questi uomini e poi così per portarli via alle mogli, ma insomma non gli è mai riuscito per dire la verità. La maga Patrizia non risparmerà a Maria Luigia nulla e di lei dirà peste e corna, definendola malvagia, ruba mariti e ridicola per quel suo modo di abbigliarsi a suo dire poco consono per una della sua età. Solo che, sempre secondo maga Patrizia, a un certo punto la Redoli non chiederà più improbabili pozioni d'amore, mariti di magia nera con lo scopo di eliminare fisicamente qualcuno. E chi? Luciano Jacopi forse? Per farla breve saranno proprio questi sedicenti maghi i principali accusatori di Maria Luigia e in particolare tra i più agguerriti detrattori della Redoli ci sarà un certo mago Portigati, non a caso convivente della maga Patrizia, al quale la Redoli avrebbe chiesto una fattura a morte per il marito. E il mago, con inaspettato pragmatismo per essere un cartomante, le dice ma no signora, ma la magia nera serve a poco, piuttosto potremmo fare una chiamata, intendendo fra le righe di ingaggiare un sicario, un professionista del crimine, per togliere di mezzo l'odiato casparello. E per l'incombenza gli avrebbe chiesto ben 30 milioni di lire. In realtà, secondo il mago questo voleva essere solo uno stratagemma per levarsela di torno. Con quella cifra lì la donna avrebbe desistito a chiedergli quel tipo di servizi. Volevo darle una lezione, si difenderà il mago. Secondo Maria Luigia invece il mago conosceva ogni sua piccola debolezza. Sapeva inoltre che per lei 30 milioni non erano poi così difficili da recuperare. In pratica voleva solo spillarle del denaro facile e Maria Luigia infatti si presenterà con un anticipo di ben 15 milioni. Soldi che il mago ovviamente lesto si intascherà non restituendoli mai. A sua discolpa la redoli dirà di aver chiamato il mago chiedendogli di fermare tutto. Questa cosa, gli dice, non deve succedere e gli chiede indietro i soldi a riprova della sua convinzione a non voler far del male al marito. Soldi che tra l'altro non vedrà mai più perché il mago se li terrà. Ma perché la redoli avrebbe voluto il marito morto? Per soldi, dirà la procura. Sì perché il patrimonio di Luciano Jacopi era ben più che consistente, era addirittura da Nababbo. Sette miliardi di lire fra immobili e tanta tanta liquidità. Soldi che però Jacopi aveva vincolato attraverso una separazione dei beni appena due anni prima del delitto. In caso di divorzio quindi la redoli di quel patrimonio avrebbe ereditato poco e niente. E in giro si diceva che Jacopi fosse stufo di quel matrimonio di facciata e di quella testa calda della moglie. E scavando scavando si scopre anche che Maria Luigia all'insaputa del marito aveva degli scoperti per decine di milioni con diverse banche. Per Maria Luigia mettere le mani su quel patrimonio in qualità di vedova sarebbe stato vitale. Innanzitutto per pagare i suoi debiti e poi per goderseli insieme ai figli e al suo amante del momento. Sì perché da qualche tempo Maria Luigia faceva coppia fissa con un ragazzo molto più giovane di lei, Carlo Cappelletti. Carlo Cappelletti Maria Luigia lo conosce il 13 maggio 1989 a Marina di Pietrasanta durante un carosello del quarto reggimento dei carabinieri a cavallo. Quando lo vede, giovane e fiero in alto uniforme, in sella al suo cavallo, Maria Luigia ne rimane folgorata. Carlo ha appena 24 anni, è originario della provincia di Latina, è alto quasi due metri ma a ben guardarlo all'area di un ragazzo piuttosto timido e impacciato. Figlio di operai per un po' lavora come macellaio ma quando riesce ad arruolarsi nell'arma corrona il sogno di una vita, specie perché entra in forza dei carabinieri a cavallo e i propri cavalli sono la sua passione. Di lui a Norma, suo paese di origine, si dice solo un gran bene. È un bravo ragazzo, è un bonaccione, uno che odiava vedere ammazzare gli animali, uno che aveva orrore del sangue. Anche se è molto ammito dalle ragazze del paese, non aveva mai avuto fidanzati ufficiali. Carlo e Maria Luigia si rincontrano casualmente la sera dopo alla Bussola, locale notturno molto rinomato in Versilia, a Marina di Pietrasanta, località Focette. Con lei, come il giorno della parata, ci sono anche Tamara e Diego. Carlo, sentimentalmente piuttosto acerbo, rimane affascinato da quella donna, tanto più grande di lui, è disinvolta e a cui sembra piacere molto. E come qualcuno malignerà in seguito, Cappelletti, forse più che da Maria Luigia, rimase abbaiato dal modo disinvolto in cui la donna spendeva i suoi soldi, in cena, al ristorante di russo, vestiti, champagne e chi più ne ha più ne metta. Lui, che era abituata a vivere col suo magro stipendio da carabiniere e che mai aveva sognato di poter fare la vita da vivere della Versilia. Una tesi che quando fra i due voleranno gli stracci, la stessa Maria Luigia sposerà in pieno. Ad ogni modo, da quell'incontro alla Bussola, i quattro diventeranno inseparabili. La passione fra i due era fortissima e, nonostante Carlo fosse distanza a Roma, approfittava di ogni licenzo tempo libero per salire su in Versilia e fare la bella vita con Maria Luigia, che ovviamente gli pagava i biglietti del treno e il soggiorno all'hotel San Domingo, a Lido di Camaiore, gestito da un carissimo amico della Redoli. La donna, a un certo punto, gli fa anche credere di aspettare un figlio da lui, cosa improbabile dal momento che Maria Luigia viaggiava a bere spiegate verso la menopausa. Ma vabbè. Poi caso volle che durante un'esercitazione un cavallo sferrasse un calcio a Carlo Cappelletti, tale da farlo cadere per terra e rompersi un braccio. Un infortunio provvidenziale quello, perché stava per iniziare la stagione estiva e quale momento migliore per prendersi dei giorni di malattia e passarli in Versilia. Dal suo paradiso dorato in Versilia, Cappelletti scriveva lettere agli amici dicendo loro che stava facendo la bella vita e che la sua amante gli aveva promesso macchine, viaggi e lussi vari. Un solo impedimento a quella prospettiva di vita agiata, la presenza di Jacopi che minacciava di ribaltare quel benessere. C'era il movente quindi, c'era l'enigma della porta chiusa con le quattro mandate, c'era l'odio per Jacopi da parte di tutta la famiglia. L'unica cosa che proprio non si incastrava in questo scenario era l'alibi, sì perché Maria Luigia per l'ora del delitto aveva un alibi all'apparenza di ferro. Maria Luigia dirà che la domenica del 16 luglio l'aveva trascorsa al mare a Lido di Camaiore insieme ai figli ovviamente e a Carlo Cappelletti, che come abbiamo visto per via di un infortunio era in malattia forzata e indossava un gesso. Passano il pomeriggio al mare, poi sempre tutti insieme raggiungono l'hotel San Domingo dove si cambiano per la cena. Cenano quindi al ristorante dell'hotel e alle 21.30 lasciano il ristorante e si mettono in macchina per raggiungere la bussola a Marina di Pietrasanta che dal ristorante dista pochissimi chilometri. La giacchiera ancora presto decidono di allungare la strada e passare da Forte dei Marmi. Passano anche di fronte a casa di Maria Luigia e Jacopi in via provinciale. Vedono le luci spente e proseguono lungo la strada dove però incrociano una pattuglia dei carabinieri con a bordo il maresciallo Pudda. Oltre che vicino di casa della Redoli anche comandante della vicina caserma dei carabinieri, la stessa dove qualche ora dopo la Redoli si recherà. I due si fanno un cenno di saluto e ognuno prosegue per la propria strada. La comitiva raggiunge la bussola intorno alle 22 al locale praticamente vuoto. Da lì proseguono la serata ballando e bevendo e all'1.40 circa lasciano la bussola. Maria Luigia accompagna Cappelletti al San Domingo e si dirige a casa, lì dove troverà il cadavere del marito, sul pavimento del garage. E neanche a dirlo il racconto verrà confermato dai figli Tamar e Diego e dal Cappelletti. Ma un alibi per essere valido va riscontrato. Gli inquirenti vanno quindi dal proprietario dell'hotel San Domingo, grande amico della Redoli, il quale dichiara che il gruppo aveva lasciato all'albergo tra le 21.35 e le 21.40. E si dice certo di ciò perché come ogni sera a quell'ora l'uomo si trovava nelle cucine a organizzare i pasti per il personale del giorno dopo. Sarà la stessa Maria Luigia a raggiungerlo e a chiedergli quasi implorandolo di unirsi allora alla bussola. L'uomo confermerà anche che Cappelletti fece ritorno in hotel poco prima delle due e lo saprà perché era fuori dall'hotel in quel momento, quindi lo ha visto rientrare. Anche il direttore e il personale della bussola confermano che il quartetto alle 22 fece il suo ingresso in discoteca. E allora cosa non convinceva gli investigatori? Quello che non convince gli inquirenti fu quel percorso allungato per raggiungere la bussola. Sì perché da Lido di Camaiore a Focette, dove si trova la bussola, ci sono un paio di chilometri. Il gruppo invece decise di passare da Forte dei Marmi fino a raggiungere Villa Jacopi per poi rifare il percorso inverso. Era credibile che lo avessero fatto solo perché era troppo presto per andare alla bussola? E poi il maresciallo Pudda confermerà la circostanza di aver incrociato la Redoli poco prima delle 10? No, il comandante dirà di non aver mai visto né la Redoli né la sua auto, nonostante quella sera avesse fatto quella strada più e più volte. Anche se, a rigor di logica, che motivo avrebbe avuto la Redoli di collocarsi in un orario così vicino a quello del delitto, proprio sotto casa e addirittura aver detto di aver incrociato il comandante dei carabinieri se non fosse stato vero? Gli inquirenti che ormai si erano innamorati della tesi della Redoli assassina daranno una lettura diversa. Per chi indaga alle 22 Jacopi era già morto sul pavimento del suo garage, ucciso dal gruppetto che avendo incrociato la pattuglia con dentro Pudda per paura che questa informazione gli fosse contestata, non poterono non menzionarla. Beffa delle beffe, Pudda non si era neanche accorto di averli incrociati. La Redoli e il gruppetto avevano quindi un alibi confermato, ma non basta per tirarli fuori dalla rosa dei sospettati. Si arriva così a intercettare tutti i telefoni delle persone coinvolte, quelli di casa Jacopi in primis e poi anche l'utenza della camera al San Domingo dove alloggiava Cappelletti. E di frasi ambigue la Redoli e Cappelletti se ne scambieranno molte. Pensi che Tamara parli? Dirà un giorno Carlo a Maria Luigia. Ma no, Tamara non parlerà, gli risponde lei. A cosa si riferivano? Ma sarà la conversazione intercettata fra la Redoli e il Mago Portigati che farà saltare gli inquirenti dalle sedie. Lo abbiamo detto, il Portigati aveva proposto a Maria Luigia di avvalersi di un killer alla modica cifra di 30 milioni di lire. E proprio in quella conversazione Maria Luigia si accertò che il marito non fosse morto in seguito a quel mandato per la quale la stessa Redoli aveva sborsato 15 milioni per poi tirarsi indietro. Non c'entrano mica loro, vero? Dice la Redoli al Mago riferendosi agli ipotetici killer. No, no, risponde lui. La procura darà una lettura ben precisa di quella telefonata. In primis si convincono che la Redoli ci sia dentro fino al collo e poi che il mandato con il killer era sì saltato ma il proposito di uccidere Gasparello rimase in piedi e fu portato a termine dalla stessa Maria Luigia insieme a Cappelletti. Il che ha poco senso con la frase non c'entrano mica loro. Se davvero fossero stati la Redoli e Cappelletti a ucciderlo non avrebbero avuto alcun motivo di accertarsene, no? Ad ogni modo il 5 agosto 1989 la procura chiude le indagini e spicca un mandato di arresto per Maria Luigia Redoli e Carlo Cappelletti con l'accusa di aver pianificato l'omicidio del di lei marito Luciano Jacopi detto Gasparello. Braccio armato il Cappelletti, complici i figli di Maria Luigia, Tamara e Diego di 19 e 14 anni. Per Maria Luigia è una doccia fredda. La donna per provare la sua innocenza dirà che se davvero avesse voluto morto il marito le sarebbe bastato non accorrere tutte le volte che l'uomo aveva degli scompensi cardiaci perché era cardiopatico. O sarebbe bastato non dargli le medicine? Come dirà la donna, mi sarebbe bastato aspettare. Inoltre aggiungerà non mi mancava niente, facevo la mia vita senza problemi. Chi è che non desidera? No, non desidera. C'è in un momento di rabbia che sia la moglie al marito o viceversa, ma almeno tu morissi in tutte le famiglie penso che ci sia, però io non l'ho mai desiderato. Anche Tamara passerà una notte in cella. La interrogano con l'intento di farle confessare qualcosa. La ragazza sotto torchio piange ma confermerà tutto quanto detto dalla madre. Quando Maria Luigia seppe di questo duro interrogatorio si infuriò al punto da chiamare Cappelletti. Questa conversazione venne debitamente intercettata ovviamente. A Cappelletti dice io adesso vado da quelli, cioè i magistrati, e gli stacco il collo. Carlo allarmato la rimette a posto dicendole ma cosa vai a pensare? Cosa dici? Uccidere un uomo? Questa telefonata all'apparenza banale verrà letta dai giudici come il chiaro segno del carattere inclino alla violenza di Maria Luigia. Il giallo della Versilia inizia a tenere banco su tutti i giornali e programmi di cronaca. Protagonista indiscussa è lei la audace, spavalta e platinatissima cinquantenne Maria Luigia Redoli. Con i suoi tacchi, le sue minigonne e quella realgida che indisponeva, per tutti ormai era solo la circe della Versilia. Così come il poco compianto Jacopi, Maria Luigia spaccava in due l'opinione pubblica, divisa tra chi la condannava anche e soprattutto per la sua discutibile condotta morale e chi in quell'ingarbugliato giallo non ci vedeva chiaro. Il 3 aprile del 1990 in corte di Assise a Lucca si apre il processo di primo grado e la difesa della Redoli ha un bel da fare nel cercare di dimostrarne l'innocenza. Tocca confutare dei fatti circostanziali, ad esempio il dilemma della porta chiusa a quattromandate, il vero cardine dell'accusa. A chiudere la porta è stato l'assassino di Jacopi, ovvero Maria Luigia, che dopo aver ucciso il marito con cappelletti era salita in casa per lavarsi dal sangue. A quel punto e per un collaudato automatismo chiuse la porta a quattromandate. Peccato che Jacopi fu ritrovato senza chiavi, che di fatti erano ben riposte in casa. A questo fatto la difesa oppose l'esistenza di una terza chiave, che solitamente veniva riposta dentro il bauletto di uno scooter parcheggiato nel secondo garage. Questo secondo garage veniva aperto da un'ulteriore chiave, che in famiglia tutti sapevano trovarsi in cortile sotto una confezione di detersivo. Questo sistema era stato architettato perché Jacopi, spesso e volentieri, dimenticava di portare le chiavi con sé. Ecco perché Jacopi non portò con sé le chiavi. Ma c'è di più. La difesa ipotizzò anche che Jacopi, contrariamente ai piani, quella sera fosse uscito di casa e che abbia usato proprio il terzo mazzo di chiavi per aprire il garage, per poi riporle nuovamente nel bauletto dove furono ritrovate. A quel punto, sempre secondo la difesa, l'uomo sarebbe stato attirato da strani rumori nell'altro garage. Lì avrebbe sorpreso un ladro che spaventato gli si sarebbe avventato contro, accoltellandolo. Anche se a mio avviso non vengono spiegate le quattro mandate, se Jacopi è uscito senza chiavi per utilizzare le terze chiavi, come avrebbe fatto a chiudere la porta con le mandate? Ma non è l'unico punto su cui la difesa si batterà strenuamente. Altro tassello fondamentale nel giallo della Versilia sono le tempistiche. Per l'accusa, lo suicidio si sarebbe compiuto tra le 21 e 45, ora in cui Jacopi era certamente vivo, e le 22. Quindi 15-20 minuti al massimo. Sufficienti, secondo l'accusa, per attirare Jacopi nel garage, accoltellarlo per ben 18 volte, salire in casa, ripulirsi e uscire per essere alle 22 e 5 massimo alla bussola, dopo 9 minuti di tragitto in macchina e dopo essersi sbarazzati dell'arma del delitto. Come dirà Maria Luigia sarcasticamente, erano stati davvero bravi. Per la difesa, portare a termine un obiettivo compreso di fasi preliminari e azioni post-omicidio nella strettissima finestra temporale ipotizzata dall'accusa, sarebbe stato impossibile anche per un commando navigato. Figuriamoci per due sprovveduti come Larredoli e Cappelletti. Inoltre, sostenne sempre la difesa, ma come ha fatto Cappelletti a non sporcarsi di sangue? La scena del crimine era invasa dal sangue. Possibile che Cappelletti fosse andato in discoteca con gli abiti sporchi? Ricordiamoci anche che l'uomo aveva un gesso, anche quello si sarebbe dovuto sporcare di sangue. Eppure, chiunque le abbia visti quella sera li vedrà con gli abiti a posto, puliti. Al processo, come abbiamo già detto, particolare rilevanza verrà data alla malsana ossessione della Redoli per le forze occulte. Maghi e maghe sfileranno in aula per accusare la Redoli di essere una donna senza cuore, interessata solo al denaro del marito, è più che disposta a chiedere fattura a morte. E poi ci sono quei 15 milioni date al mago Portigati, la prova che la Redoli volesse far fuori il marito. Dopo due settimane di udienze, i giudici della corte di assise di Lucca giunsero a un verdetto, assoluzione piena per la Redoli e Cappelletti. Troppo deboli gli elementi indiziari e debole anche il movente. Assolta anche Tamara per non aver commesso il fatto, sentenza confermata anche in Appello e Cassazione. Peccato che appena un anno dopo, il 16 febbraio 1991, i giudici della corte di appello ribalteranno la sentenza. Ergastolo per gli amanti della Versilia. Secondo la corte di appello, chi chiuse la porta a quattro mandate deve avere necessariamente ucciso anche Jacopi. Secondo la ricostruzione della corte che ha emesso la sentenza, gli amanti avrebbero teso una trappola a Jacopi per farlo scendere in garage. Una volta lì, il Cappelletti lo avrebbe aggredito alle spalle, tenendolo fermo con il braccio destro, quello ingessato, e con il sinistro avrebbe sferrato i colpi. Dopo averlo ucciso, Maria Luigia gli sfilerà il portafoglio. Insieme saliranno in casa a ripulirsi e poi andranno via a fare baldoria. Ma come avrebbe fatto Cappelletti a non sporcarsi di sangue? Secondo i periti della difesa, chi ha ucciso Jacopi deve essersi per forza sporcato. A riprova di ciò, il gesso di Cappelletti verrà ritrovato nel cestino della spazzatura della camera all'hotel San Domingo. Sì, perché mentre faceva il bagno al mare, Cappelletti avrebbe bagnato il gesso che, inzuppandosi di acqua, si sarebbe gonfiato fino a rendere impossibile il tararlo su. Carlo quindi se ne sarebbe sbarazzato dopo la serata alla bussola. Il gesso però verrà ritrovato in tonso. Come si spiega? Per l'accusa il gesso era facilmente rimovibile. Cappelletti quindi lo avrebbe sfilato prima di aggredire Jacopi per rimetterlo dopo. Ecco perché non si sarebbe sporcato. I giudici credono alla tesi dell'accusa e li condannarono all'ergastolo. I due amanti devono attendere però la decisione della Cassazione, che ahimè il 23 agosto 1991 confermerà la condanna all'ergastolo. La villa dove nel frattempo la Redoli e Cappelletti siano rifugiati diventa il teatro di una tragedia sfiorata. Carlo, alla notizia della sentenza definitiva, proprio non ci sta. Non vuole consegnarsi e quando i carabinieri arriveranno alla porta per tradurli in carcere, la reazione di Cappelletti sarà del tutto imprevedibile e violenta. Carlo Cappelletti, il bonario Cappelletti, è una vera furia. Indomabile e ingestibile resiste all'arresto, arrivando a ferire un poliziotto, sferrandogli un colpo di pugnale che teneva nascosto. Poi riesce a sfilare la pistola del poliziotto ferito e con quella spara qualche colpo, seminando il panico. Infine, tenta il suicidio, saltando giù da una finestra. Sopravvive e viene trasportato in ospedale. Reazione contraria quella di Maria Luigia. Algida e impassibile, con i suoi inseparabili occhiali neri. Sfila a testa alta, con le manette ai polsi davanti a decine di telecamere da ore appostate davanti casa. Reazioni contrarie quindi, e che porteranno a una progressiva rottura, da amanti a nemici giurati nello spazio di poco tempo. In una nota intervista alla Leosini, Maria Luigia di Cappelletti dirà «Non gli piacevo io, gli piacevano i miei soldi». Si chiudono le porte del carcere dietro i due ex amanti, ma la loro vicenda giudiziaria non si chiude qui. Nel 1994 l'avvocato della Redoli fa una prima richiesta di revisione sulla base di un esperimento giudiziale che si terrà il 17 luglio del 1994, a 5 anni esatti dal delitto, per dimostrare che con la stessa macchina, alla stessa ora, con le stesse condizioni, il gruppetto non avrebbe avuto il tempo di uccidere Jacopi ed essere alla bussola alle 10. Ahimè, la richiesta di revisione venne respinta nel 1996. Ne venne avanzata un'altra, che si basava invece su un'intuizione dell'avvocato, che guardando le foto della scena del crimine si accorse che il sangue di Jacopi era ancora parecchio liquido, tanto da riflettere la profilatura laminata di un piccolo frigorifero vicino al cadavere. Considerate le alte temperature, se davvero fosse morto poco dopo le 21.45, il sangue sarebbe stato più rappreso e meno liquido. Per calcolare in maniera ovviamente approssimativa l'ora della morte, venne effettuato un esperimento con del sangue umano fresco, prelevato da soggetto volontario, all'incirca dello stesso spessore, con davanti dei fogli di alluminio che potessero simulare dei riflessi sul sangue, proprio come in quello di Jacopi. Di questo sangue vennero fatte diverse foto a distanza di mezz'ora l'una dall'altra, e si osservò come la foto della chiazza di sangue che più si avvicinava a quella scattata al momento del ritrovamento era stata catturata all'incirca dopo tre ore e mezza e non sei. Secondo questo esperimento, quindi, la morte di Jacopi sarebbe da collocarsi dopo mezzanotte e non alle dieci. Questo avrebbe di certo escluso un coinvolgimento della redola e del gruppetto. Ahimè, anche questa richiesta di revisione venne respinta. Nel frattempo, anche il rapporto con i figli si incrinò. Tamara e Diego commentarono laconicamente i tentativi di revisione della madre e si limitarono a dire «sta bene dove sta» e le cose andranno sempre peggio, come vedremo. La vitale Maria Luigia, pur inchiusa nel carcere di opera, non perde la sua voglia di godersi la vita e, perfettamente in linea con il suo personaggio, nel 2009 la donna si risposerà con un avvocato di Milano in pensione, di qualche anno più giovane di lei. Gli anni passano e la donna inizia a godere di qualche permesso premio. Fino al regime di semilibertà. Lavorerà in varie strutture di riabilitazione fino al 2015, anni in cui verrà scarcerata in maniera definitiva. Negli ultimi anni viverà ad Arezzo, in un piccolo appartamento con due cagnolini. Per tutti, Maria Luigia è ormai una vecchietta anonima, piena di acciacchi, molto riservata e lontana dagli scandali di gioventù, quando le bastava mettere fuori il naso per far scendere giù i santi. Incapace di muoversi è assistita da due badanti. Ogni tanto verrà a farle visita il figlio Diego. Tamara no, non verrà mai a trovarla. Della madre e della sua sorte non vorrà mai più saperne e quando Maria Luigia, sazia di vita, morirà all'età di 80 anni nel 2019 per problemi ai reni, Tamara non si presenterà a darle un ultimo saluto. Quella madre che tanto aveva amato in gioventù al punto da voler essere come lei era per Tamara un capitolo chiuso. Forse Tamara non aveva tollerato il fatto che a un certo punto la madre, forse per ripicca nei confronti dei due figli che a suo dire le voltarono le spalle, la mise in mezzo indicandola come vera mandante di quel famoso ingaggio con il mago Portigati. Era lei che avrebbe voluto vedere Luciano Jacopi morto e fu lei a spingere la madre a consegnare quei 15 milioni. Qualsiasi sia la ragione, un fatto è certo, Tamara e Diego devono aver sofferto tanto di tutta quella storia. Le loro sono reazioni del tutto comprensibili e che io non mi sento di giudicare. Per quanto riguarda Cappelletti, attualmente anche egli si trova in regime di semilibertà. Di lui si sa soltanto che lavora come operatore ecologico. In occasione della morte della Redoli è stato raggiunto da un cronista. Carlo si è limitato a dire, sì, lo so che è morta, ma non voglio parlarne. Mi spiace se siete venuti fino a qua per niente. Oggi è un 55enne invecchiato, imbolsito e con le spalle curve. Il peso della ventennale detenzione è tutto sulle rughe del viso, sul suo sguardo all'ingiù. Al paese continuano a chiamarlo il gigante buono. Per loro Cappelletti con quella storia non c'entrava nulla. Ha solo pagato lo scotto di essere troppo, troppo buono. Voci di paese di chi prova per lui affetto. Affetto e comprensione negata a Maria Luigia, imperdonabile quel suo voler vivere alla sua maniera, con quel suo anticonformismo inaccettabile. Il mio video finisce qui. Mi scuso per la voce perché sono reduce da un raffreddore, mal di gola, eccetera, eccetera. Quindi la mia voce è un po' più nasale del solito. Spero mi perdonerete. Si conclude così il mio video. Immagino che conoscevate questo caso perché è un caso veramente cult. Che ne pensate? Secondo voi Maria Luigia e Cappelletti hanno davvero ucciso Jacopi? Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. A presto con una nuova storia crime. Ciao!